Ciao, mi chiamo Luca, sono al secondo anno di apprendistato come operatore in automazione e oggi vi spiegherò cosa faccio lavoro. Scelto questa professione perché è molto dinamica e variata, poiché spazio dalla programmazione alla meccanica. A parer mio non è una professione alta a tutti, poiché bisogna avere degli interessi verso la tecnica e delle buone potenzialità in matematica. Oggi il mio superiore mi ha commissionato questo lavoro con lo scopo di farmi apprendere le nozioni fondamentali di programmazione. In questo lavoro il mio compito era quello di creare un comando che doveva far funzionare due semafori da cantiere.